Il nostro Rattrapper Mike ha appena tirato una palla che potrebbe essere in una zona vicina al fuori limite. Qui cosa ci dice la regola? Che possiamo andare là in fondo, rischiare di non trovare poi dover ritornare a giocare da qua, oppure giochiamo una provvisoria, risparmiamo tempo, tanto se la prima palla è in gioco, la provvisoria non porta nessuna penalità. Smette di esistere. Ci sta.